Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Fairy ASMR Grazie per aver scelto questo video rilassante Come vedete sono nuovamente qui con la mia candela Perché sto per riproporvi un'altra meditazione sulla luna Vi ricordo che sto portando avanti una serie di meditazioni legate alle fasi lunari Se avete perso la prima ve la lascio qui nella i di informazioni e giù nell'info box Mi raccomando fate un'occhiata Potete andare a recuperarla alla fine di questo video Oggi in particolare voglio proporvi una meditazione dedicata alla luna galante Appunto la meditazione della luna galante Vi spiegherò tra poco in che cosa consiste Nel frattempo vi ricordo che per eseguire questa meditazione Vi servono semplicemente degli auricolari oppure un paio di cuffie Una candela da accendere E un posto comodo nel quale potervi rilassare completamente Dove sapete che nessuno verrà a disturbarvi per i prossimi minuti Prima di iniziare con la solita breve spiegazione Vi chiedo ovviamente di lasciare un mi piace se questo video vi piace E se non siete ancora iscritti a questo canale Attivarlo cliccando ovviamente il pulsante iscriviti Per non perdere i prossimi minuti rilassanti In sottofondo ci sono i lupi che giustamente ululano alla luna Lasciamoli ululare Nella meditazione della luna galante Impareremo a lasciare andare Ciò che non è più necessario Alla nostra vita e soprattutto alla nostra crescita personale Molto spesso ci capita di restare ancorati A episodi, persone o oggetti del nostro passato Che però in qualche modo ostacolano la nostra evoluzione Il segreto per poter procedere in maniera più libera e più serena È ovviamente imparare a lasciare andare ciò che non serve più E che già non fa parte più della nostra vita Proviamo dunque a farlo nel corso di questa breve meditazione Che potete svolgere in qualsiasi periodo del mese Ma che vi consiglio maggiormente di praticare nel periodo di luna galante Avete la vostra candela Non ti resta che ascoltare la mia voce E iniziare Come al solito siediti E mantieni la schiena ben dritta Le braccia sono distese lungo i fianchi Le gambe possono essere incrociate Il mento è alto Le spalle sono basse e rilassate Inizia a visualizzare la fiammella della candela di fronte a te E ricerca un contatto tra la tua energia anteriore e quella della candela Puoi farlo come al solito Muovendo delicatamente le mani E notando come La fiamma risponde Piano piano Ai tuoi movimenti Fino a creare un movimento all'unisono Armonico E quasi una danza Concentrati solo Su questi movimenti Delle tue mani E della candela E inizi a fare dei respiri profondi Ad ogni respiro Senti che il contatto stabilito Con l'energia della candela E' più intenso E profondo Quando senti Che la connessione stabilita E' quella giusta Puoi chiudere gli occhi Visualizza adesso L'immagine residua Della fiamma Ancora ardente Proprio di fruttette E con Un movimento delle mani Sempre molto lento Attira il calore Di questa fiamma Al centro del tuo petto Guarda Le mani Dalla candela Verso in te Assorbi L'energia vitale Di questa candela Ti chiedo Una volta Una volta Che senti Di aver stabilito Profondamente Questo contatto E di aver assorbito Un po' Dell'energia della candela Di Lasciare andare Quell'energia Che invece E' dentro Di te E che non serve E che non serve più Hai bisogno Di un'energia nuova In questo momento Prendila dalla candela E lascia andare Ciò che Non ti appartiene più Devi scavare All'interno Di te E devi Trovare Quell'energia A cui Potresti Rimanere Ancorato Ancorato Perché in fondo È bella Ma che Non è più tua È nascosta In qualche angolino Cercala Potrebbe essere Nella testa Nella punta Delle mani Dietro Il ginocchio Sopra I piedi Cerca Quella fiammella Di energia Che dovresti Lasciare andare E non temere Perché Mentre Lasci andare Ciò che non ti appartiene più Dentro di te Si fa spazio Per accogliere L'energia nuova Della candela Una luce pulita Nuova Che rigenera Hai visto Nella prima fase Della meditazione Che sei assolutamente In grado Di accoglierla Che puoi assorbirla Continua con il movimento Delle mani Apprendere Ogni volta Che ne avrai bisogno Un po' Di energia Nuova Ma Ad ogni Respira Scendi Scendi più in profondità Dentro di te Scopa La fiammella È quello subito È quello subito Prima Dell'alba È il momento In cui Stai per risorgere Perciò Lascia che si affievolisca La fiammella Dell'energia Vecchia Vecchia Che non ti appartiene Più Lascia che si spenga Lasciala andare E con questa Lascia andare Ciò che è vecchio Che non ti occorre Con ogni Ispirazione Fai spazio Con ogni Ispirazione Lascia andare Una volta che avrai Trovato La fiammella Vecchia Una volta che avrai Lasciato Che si spenga Salutala E ringraziala Per ciò che ti ha Dato Adesso sei una persona Più forte Più ricca Più completa Ed è ora Di passare Allo stadio Successivo Osserva Come dentro di te Si sia creato Dello spazio Da illuminare Nuovamente Bisogna sempre Lasciare un po' di spazio E questo è ciò che abbiamo fatto Oggi Aiutandoti a lasciare Svegnere Ciò che non serve più Per accendere nuovi fuochi Per stabilire nuove connessioni Per nutrirti Di nuove energie Se i tuoi occhi Sono ancora chiusi Adesso puoi riaprirli Continua a muovere le mani E controlla E controlla come Nuovamente L'energia della candela Risponde Controlla Come sei in grado In ogni momento Di stabilire queste connessioni nuove E come adesso Tu abbia ancora più voglia Di assorbire luce nuova Ora anche quella Che non serve più L'abbiamo spenta Puoi ripetere questa meditazione Tutte le volte che puoi E' particolarmente adatta Prima di andare a dormire Ma Puoi praticarla In qualsiasi momento Della giornata Ti chiedo ovviamente Di lasciare un mi piace Se il video ti è piaciuto E di non andare via Prima di aver Lasciato anche Un tuo pensiero felice Ovviamente Noi ci vediamo Come al solito Se ti va Nel prossimo video Bacini e fatosi Non ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Grazie a tutti